tutto pronto per questa gara di ritorno così definita contro il manchester united si direi che tutto pronto ragazzi il gruppo a voglia alla mentalità giusta sappiamo quanto importante questa partita ancora ci dobbiamo allenare dobbiamo ancora sistemare alcuni dettagli e saremo pronti per per domani che sarà una una bella partita da giocare anche perché dovete un po riscattare quel 3 a 2 subito a manchester dopo che eravate in vantaggio per 2 a 0 però in queste grandi partite può anche succedere questo se siamo un po feriti un po colpiti di quel risultato lì perché ci aspettiamo un risultato diverso ma lo bello di questo gioco che ti dà altre opportunità come quella che avremo domani quindi il gruppo è consapevole che che se vogliamo avere anche qualche chance di passare gruppo domani il risultato deve essere positivo e niente speriamo che farlo qua a Bergamo con i nostri tifosi che per noi sono importanti sempre sono abbastanza caldi quindi speriamo di trovarci un bel ambiente e tutte le condizioni per poter vincere questa partita aver pareggiato contro la lazio dopo che siete andati sotto per due volte a livello di convinzione di testa quanto è stato importante se il pareggio e il pareggio con la lazio è stato importante per noi perché ci ha dato qualcosa che che magari ci ha mancato un po in tutte queste partite un po più di di grinta un po più di di voglia di cercare risultati non sto dicendo che non l'abbiamo e non l'abbiamo avuto in questi parti in queste partite da quando iniziato il campionato che ci ha mancato un po di più quindi diciamo che questo questo pareggio ci ci lascia soprattutto questo e ovviamente sempre si può migliorare tecnicamente sui movimenti però come gruppo come come squadra avere questo spirito di di sempre andare a cercare le partite anche 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 se magari i risultati il risultato è adverso è una cosa molto positiva è una anche una di una delle caratteristiche che che sempre ha avuto l'atalanta quindi diciamo che questa parte questo pareggio contro la lazio ci ci ha lasciato questo questo questa questa cosa questa cosa che è molto importante questa convinzione anche per te assegno nelle ultime partite e quindi è importante per un attaccante fare gol sì certo anche anche per me ogni partita mi lascia soddisfazioni mi lascia anche qualcosa di fare di migliorare quindi sia sia io che tutta la squadra vogliamo continuare con su questa strada qua che è importante ancora è presto però si cominciano a avvicinare partite decisive e niente per noi vogliamo solo solo continuare a fare bene ogni anno quest'anno abbiamo la possibilità di continuare a farlo quindi il campionato il campionato sia il campionato che la champion è molto importante per noi